andiamo deve fare un guerriero samurai, non per dire guarda devo fare ma che ha giù un video, non una foto ha dei video vai dai qualcuno che gli conceda un ballo io stai da sole dove andremo per un attimo ho creduto fuori il sonoro ecco lo trovo così qua tu lo riguardi guarda quanta gente che c'ha a questa festa guarda quanta gente tutti all'apertura dello special domenica 27 settembre è domenica vaffanculo vaffanculo action Passa un po' il timing. guarda io scatenato come sempre Andrea guarda 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 io sembra che sia pregando e tutta la gente in pizza soprattutto nudi nudi vabbè guarda guarda io guarda io guarda io guarda io è partito in quarta guarda io andrei guarda io è salito non si sa dove ma è salito è salito adesso teccano a fare la botte e vai sto assurando guarda io 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 guarda io